Buon salve I love you Are you afraid of the dog? Are you scared? Buon sound. Grazie a tutti. 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 E niente. Grazie a tutti. 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 Dumbo. Grazie a tutti. 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 la mia armatura penso che tu l'abbia persa o se l'hai messa da qualche parte in cui non so molto proprio messo qualche parte che non mi ricordo dove e me l'hanno pure ciulata secondo me ciulata no però non è rimorta nella lava luoghi si ricorda me prendo quello che mi manca me lo prendo da qua c'è che poi ora imparare un po a sopravvivere me la prendo in diamante in teoria ce la venete rite ma vabbè che sti cazzi vabbè fa niente amen ciao la vita coi bro che nome madonna non vedevano mi così data dall'avanti cristo ok e mi devo prendere una spada non ho più manco quella non mi è appena morto un qualcosa davanti gli occhi vabbè non c'ho più manco quella che bello che bello non c'è mai niente mamma mia ma non so dove ho lasciato la roba vabbè ritorno a parlare della mia giornata di merda perché qui bisogna grazie che mi mi prendi per il culo per la mia ramoscia mi hai finito di prendermi per il culo per la ramoscia ti ho visto la gare e penso che a terra vabbè non sei lì sai lì da me un attimo non mi direi che non hai i razzetti ovvio che non hai razzetti madonna santa fai una cosa fai tasto adesso su di me taxi personale oh no mi sto andando a scantare no 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 io in terza persona è più divertente si concordo asco ti racconta una cosa di me vai che poi oltre ad aver finito i giga per la play non mi sembra finito l'aggiornamento e quindi io tipo stavo in cucina con mia madre perché dico vabbè lascio stare il telefono mi sono rimasti 30 giga non penso che forte la play si giuccia 30 giga per l'aggiornamento e invece mi si è giucciata gli altri 30 giga rimanenti senti mettete un torso a posto di redditra sono rimasta bloccata qua da da un minuto un torso perché si è bloccata vabbè madonna ma non c'è dei blocchi un piccone non ce l'hai ho paura di farmi prendere in giro per la mia remoscia tranquillo tranquillo se ti prendono in giro pensa a me pensa a me che per meme ho iniziato a farla per meme e ce l'ho per davvero adesso la remoscia ramaro mauronia se prendi fuoco è perché ti ho picchiato io per sbaglio eh infatti ce l'avevo prima una spada così ma l'ho persa no non so perché non mi sono ritrovata la roba senti o combattiamo le stesse robe o ti metti d'altra parte perché io rischio di ucciderti comunque andrea se ti prendono in giro per la remoscia tu digli io ce l'ho a voi no la remoscia è bella e poi ricordati sempre che c'è una cretina che l'ha iniziato a fare per meme e a quanto pare ce l'ha davvero adesso allora io volendo posso fare una cosa già posso prendermi le chiavi cringe ma mai quanto te che lo scrivi broschi se tu lo scrivi sei il primo a esserlo che devi che mi rubi dai che mi hai rubato quattro di ferro ho trovato mending tra sommati ha già un nome cringe quindi vergognati vergognati di scrivere queste cose vergognati ho entrato alias spero che un creeper ti venga sotto casa stanotte ok evidentemente non sai cosa significa evidentemente non sai cos'è il rispetto per le persone probabilmente oh oh guarda cosa mi ha droppato il coso oh è pure accidente finalmente io non ce l'ho mi dai un cibo oddio sto pieno per il culo e le mosche a sbattere la minchia ignora esatto e vanne fiero dimostrai di andarne fiero eh è questo troppo me l'adoro comunque no no blu adesso devi stare zitto devi rispondere a questa domanda allora frason mattia mi dice che son cringe e dice che non so cosa evidentemente non so cosa vuol dire intanto già che si chiama frason mattia frason frason che cazzo di nome è frason mattia vuoi una mela d'oro così non rischi di morire dammela tieni è segnalata la cosa più brutta che si chiama concordo concordo che poi io boh chi cazzo viene vengono la gente a scrivere cringe uno dei primi cringe sono loro fate schifo senti hai delle chiavi nell'inventario si due ok quelle servono per aprire questi se tu non l'hai fatto teoricamente tu ancora lo puoi fare facci vicino se ti compare che diventa rosso ok mi hai dato un libro e una pozione ehhh fortuna 1 droppa droppa mille robe grazie questa servirà invece il libro non so se me l'hai droppato stai rimarando sattiglio le bugie ah ok no andrea 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 allora fida dimmi la cosa che può più fare allora loro ti prenderanno in giro ok tu non mostrarti debole mai perchè quando ti mostri debole ti mostri vulnerabile tu anche se stai di merda mostrati comunque felice sereno e che non ti toccano ok perchè se tu dimostri che non ti toccano smetteranno e vanni fiero senti ne devi proprio andare fiero hai aperto l'altra hai usato l'altra chiave no come no come usala ci sono 20 robe dove usarla ma che cazzo ciao mitsuba oh dove la uso è sempre in quei cosi ce ne sono altri però guarda in giro buone apri una a caso te la do le frecce e due diamanti e una carota d'oro e due carote d'oro buono io ho trovato quattro smeralti come va bene bene a te come va come va la vita sono caduto giù ma di nulla andrea cioè sono la prima a essere stata presa per il culo a morte se ti racconto la mia vita mi chiedete come faccio ad essere ancora viva blusa posso andare in giro e non fare nulla mi aiuti a trovare sto scorbietto che non lo trovo ma che cosa lo sento ma non lo vedo non è che sta dentro qualche muro o qualcosa no dentro il murino può stare si è spostato sto infame e ma dove? dove? è volato via si è infilato nelle fratte ah ecco ho trovato forse è trovato muori il bastardo si si sono quelli che troppano le robe per saltare in aria capito? uh due chiavi due chiavi ok non andare troppo lontana senza di me perchè qua ti perdi oh ma non c'è niente nelle casse non ti tippare dai hai rotto le pa- non mi son tippata dai questa mi ruba le cose tieni tieni no questo te lo puoi tenere gli smeraldi mi servono bene dai oggi ho avuto un bel po' di ho fatto un bel po' di disegni oh disegni bello no questo non ce l'ho messo senti aprirà tu dove sei? ecco lì tieni aprirà tu perchè non me lo fa aprire frecce si ma non ti metterlo addosso che grazie diamante e basta non ti metterlo addosso che non vedi che cavolo droppa ma si che lo vede no hai nel membro di un pesce lesso poi dici ma che mi hai droppato vedi piri pipi dobbiamo trovare un'altra zona in cui andare quindi vieni qua Ok, faccio una scaletta Oh paese Hey! Stef! Se disegno è spesso in pubblico I miei accanti disegni Anche se non sono granché Oh, dopo voglio vederli Anch'io disegno Ok Tipo la foto profilo che ho di TikTok L'ho disegnata io Ne ne vado tanto fiera Ok, no, ho fatto una stupita Ma è lo stesso luogo Ah! Grazie a te forno su TikTok Sto cercando l'altra strada Che non mi ricordo Quello è il problema Mi piace tanto che siete simpatici Siete unici che seguo ufficialmente Mi piace su Tosca Oh, mi fai piangere così Ma sai che Abbiamo beccato l'unica stanza Con nessun'altra porta Che forse Andiamo Raga, raga Madonna che buio Qualcuno clipa sta cosa Che blu è deficiente Ho capito Giriamo intorno da mezz'ora Non è colpa mia No, no Senti Questo è mio da depredare Io ti ho invitato A stare con me Non a prenderti le robe Comunque qua ci stanno gli spawner Non torno indietro Cos'è che ti serviva a te? Niente Hai detto che ti servivano delle cose verdi, vero? Che vuol dire le cose verdi? Di cose verdi Di oggetti verdi Oggetti verdi Ismeraldi Che cazzo vuol dire oggetti verdi? Scusami Cioè ce ne stanno tanti di oggetti verdi Grazie In realtà la cosa che mi serve È tipo un blocco che si chiama nucleo Più o meno Capito? Se me lo riesci a trovare Mi serve per fare una roba Ah bene C'è che farlo Capito? E se ne troviamo più di uno è meglio Perché questo è abbastanza raro da trovare Capito? Oh Mi ha rotto le palle Mori bastardo Oddio Ciao ciao Nike Stasera c'è blu Eh stasera sì Purtroppo Mamma mia Eh sì C'è blu S Altri cose va Spacca tutto È la mia impressione Mi ha glicciato Perché vedo tutto scuro Onestamente si vede anche tutto scuro Gli slime Questi servono a me Ah Ahia Lo spawner tieni Vuoi Vuoi che li ammazzo io? Ma lo spawner è ovvio Che si è mica Si spaccano gli spawner Ah è vero questo Non mi dico che è spaccato Ahia Hai spaccato qualche spawner? Adesso no Oggi no In altri dungeon Sì No Non mi dire che Mamma mia però Vuoi le patate Gli potitos Cioè Quindi Mi ha spaccato le robe Non ci credo Dove c'è davvero carina Grazie Ora mi commova Basta quando mi fanno un complimento Mi viene tipo La lacrimuccia all'occhio Non sono abituata alla gentilezza Vaffanculo Blu Ma che fuori da me Cioè Non sono abituata alla gentilezza Prende a insultarmi Sì Va bene Neanche te Sei abituata a fare complimenti Mi sa Così è gratis Esatto Mamma mia Scandalosa Questa serve Una chiave blu Che io ancora Non l'ho mai trovato Mado cazzo Cioè È talmente rara Ma povero blu Ma lui lo sa Che scherzo Con lui Ma su via No no È seria Ma è serissima Mamma mia Noi ci mandiamo Ma noi ci mandiamo A quel paese di continua Lei troppo Io no Sì Se no Io lo prendo a testate Eccolo il punto Mi offendo Io lo prendo a testate Questa è violenza domestica Donne anche tu Ne avrò per salvare Il povero blu Esatto Per evitare la ricerca Aiutate Aiutate le donne innocenti Senti Vieni qua da me Bisogna andare per di qua O almeno È quella che ho trovato Una strada Ti ho perso Se non lo Sto sopra Ci stanno le scale Ah Lo trovate Non queste strade Io riuscivo No vabbè ci stanno Da quelle Io ero scesa Lì Ma Devo scendere Per farti vedere No dai Spacca Non fare Dai Vabbè Vedi che io Con una spadata Ti distruggo Quindi Vuoi vedere Come ti ammazzo No grazie Aiuto mi sono Gricciato Ci sono spesso persone Che è un po' schifose Ma per fortuna C'è ancora gente sana di mente Per fortuna sì Cioè io ora non posso Prendere Ma perché sono tutte vuote Forse qualcuno Già ci è passato No no Forse perché Per sbaglio Qualcuno Ci è passato vicino Con lo spectator E quindi Non lo renderizza E si gliccia E Da Gli oggetti Vabbè Avrò perso Sottanto qualche Roba indiavante Fa niente Mamma mia Come sei per maloso Io per maloso Ma se sono ricco Non mi frega un cazzo Se perdo delle robe indiavante Lui non scegli Ricco Da qui Vieni qua Tanta bene Blu donna Ma lui è la donna Di là mi sono presa Io Grazie Ma ora piango Ma vedi che sto tutte vuote Niente Sei clicciato Quella l'ho presa Io Ma l'avrò Dove pensi Che ho preso Io gli smeraldi Scusami Ma che cazzo Io Mi si è clicciato minecraft Ok mi ha Mi ha frame legato Di brutto minecraft Senti io non so Stando in altre stanze Torca trota Che caga Grazie per il follow Sottwitch Benvenuto Akiro No Naika Aiuto Che cazzo Sto leggendo No Questa è la stanza Di prima Ma sto a perdere Blu Blu Che vuoi Grazie al follow Su tiktok Mi sono spaventato Ah Ah Ecco qua Ahiaiaia Akiro Se hai Discord Puoi unirti anche Mi serve il discord Ok Ciao come stai Ciao Alia Giulia Ho praticamente Schippato la zona Vieni Eccomi Ah Si ho tagliato Perfetto Perfetto direi Con questo bene Tu come stai Allora Blu Io prima ho detto Che tu sei Sei la donna Fra i due No Ah Sei caduta Si Madonna Santa Ah Oddio Pieno di Si sono buttati tutti giù Mi sa che fai una Portafine Se vuoi tippa Ti va tanto No Ma vogliono nemi chiappe Ma c'è la neve Senti fai una cosa Se stanno in tanti Corri Ti trovi un punto Dove puoi costruire Ti metti i blocchi Scappi Comunque niente Io le vedo tutte vuote Le ceste Non so te Ma solo tu Vedi la C'è normale Che qui c'è la neve Si C'è la neve È abbastanza normale Perché ci stanno Gli scheletri Della neve Quindi si È normale Infatti è abbastanza Raro come Spawner Me sa Quelli della neve Comunque Cazzo Sono volato giù No 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 Cazzo Sto nella merda No no Levati da cazzo Aiuto Sto nella merda io Io non so dove sono morta Nulla Non lo so Io ho preso dell'esperienza Può essere che Protetto lutte Non lo so Aiuto Mi sto auto Cecchinando Con Aiuto Io sto per morirci Congelata pure Io Ho problemi A ucciderli Senti Mi serve Per una pala Tutta la neve Leva sta neve del cavolo Mi sa che tu stavi dove stavo io Sì Sì E' Hai preso il minut Dubito perché Non c'ho spazio Per prenderlo Quindi Sarà qui mezzo Eccolo Ok Era finito un po' innevato Oh Ho persato Senti Ti attrito Sinceramente Se vuoi Mettiti In Merda Ah Ah Oh A vedere Tutto il cazzo No Ti ho dato una spadata Ha fatto in tempo A mettermi in game mode Ma non so Che Mi serve una spadata Di quelle proprio Non c'ho una pala Cioè Non ce l'ho Nell'inventario Cazzo Dov'è il mio altro loot? Non lo so Eccolo Eccolo Io ti ammazzo Nel frattempo Uso la spada Per spaccare la neve Ok Di solito Sempre il Discord Grazie Poi se vuoi scrivere In privato Per qualche consiglio Anche di disegno Puoi tranquillamente farlo Ancora Ho sperimentato Abbastanza Per dare consigli Dai Sempre se ne hai bisogno Senti Leviamo tutta la neve Va Così Prendo la mia Affidata pala Perchè la pala Perchè la pala non gli leva Ma Non fa niente la pala Perchè questa Questa mi sa che è neve Cioè la neve Quella che si prende con il sacchiello Ho un'altra idea Un secchiello E le prende tutta la neve Sì Però lo faccio con la spada Perchè non ho voglia di farlo con altro Più che altro se devo switchare Tipo ora Mi hai preso Con L'arco Buona spadata Vediamo se vivi Ho già tirato i tre Non te l'ho tirata con knockback Uh aspetta 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 Questo è buono Questo è buono Eh avevo una freccia Che facevo La spregavo Eh no La usavo contro di te Sai che se switch Non lo sprechi nulla Shhh Era una scusa per colpirti Su via Buonagio devo andare Spero Passare una buona continuazione Di serata Alla prossima Alla prossima Ho finito già Due stack di blocchi Ok altre chiavi Ho preso Uh là c'è altra roba Uh dei bolletti Una pozione Di Velocità Ok Ok Quattro chiavette C'ho Uno Due Tre Tre Spawner Ok Vai Apriamo Ok Ho trovato uno scudo Lo vuoi lo scudo? Sì Mi serve Ho ritrovato anche la mia mela d'oro Ancora che stai spaccando la neve Sì Va bene Nel frattempo Butto un po' di cose Magari Ho le frecce Vabbè non c'ho bisogno Le frecce Dove avevi le frecce? C'è uno Stark Qua sto Amare frecce Vabbè Ehi Zafi Come stai? Come va? Dove sei salito? C'ho fatto 20.000 scale intorno a sta drova Ci si vede Me l'adoro Uh Questo è interessante Ah Hai nato un pollo Hai parturito un pollo Oh no Parturito un pollo Tieni qua Scudo Ma Oddio Oddio ma Che culo Ma guarda quanti Prenditi tutte Prenditi tutte ste robe Ma guarda quanti Uno Ma infatti Che fortuna Da un uovo Da un uovo Sì Ho tirato due uova Si Si Blu hai parturito dei polli A quanto pare Sono 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 una madre Blu sei diventato una mamma Senti Tieni questa chiave Infilala Sì Grazie Ci sto per morire Devo uccidere i polli Nonno a te Ti sei mangiata la mela d'oro Sì Se no ci morivo Ciao Gio Hai messo la chiave No Aspetto Dai che sti così Si resettano poi Respawnano Oh madonna la roba Non lo so T'ho detto Non metterti vicina Che Che troppa Mi saluti Certo Ciao Gio Tratino basso Uno due Sette due Ius Dioni Basta con sto gatto morto Vieni Vieni Segui Aspetta Fammi De qua Un po' Allie Non c'è niente di interessante Vieni Dove sei? Vabbè no Non te la tiro la freccia Che sennò ci muori Lo sai che c'hai le robe per sbarzare con la specie di vortici Sì Sì Altre Oh balestra Vedi com'è la balestra Mi è morto dai e da solo perché mi dispiace per il gatto faccio questo Ma perché in televisione ci sono delle suore che cantano i maneskin Le suore che cantano i maneskin Ok Mi è nuova Ah Gaccia della rosa Tipo le suore che fanno I'm begging Senti io non so più do cazzo stanno le stanze perché è un labirinto Dovrebbe essere tipo la terza Seguimi Ti seguo Seguimi E se non ti seguo mi perdo Seguimi Ma chi è che costruisce Oltre a quello che costruisco io Tu No Sei l'unico che costruisce Devo andare Devo andare Ma è stato un bel momento di salutarti Va bene Ciao ciao Grazie mille per essere basciato Qui ci siamo stati So che dovrebbe essere grande Ma io ho racqua dei problemi perché non Ah ma non sono suore vere ma dai che trollata Mi sembrava strano delle suore vere cantastro i maneskin Vado a dormire Buonanotte Non vorrei che già fosse finito Mi sembra strano Ma finisci La vecchia Bezzi Che cazzo hai fatto Ok che sei vecchia però Qua ci siamo andati Oh me lo devo esplorare da solo qua Perché da solo Perché così spacco tutto qua Ma non ho voglia di spaccare Dove sei T'ho perso Lu Vai dove eravamo prima Ci sto già Dove eravamo prima o dove aspe? Ehm Niente qua c'è nulla Senti si vede il nome guarda Ah Stavo spaccando delle robe Ehm Ma finisci di lanciarmi le frecce Ma chi te le sta lanciando le frecce? Ma io dico no? Se tu mi colpisci con una freccia io ti colpisco Pando mangia che non ha Ti avevi sciupato E' la cosa più bella che ho sentito oggi Niente non trovo un'altra strada sinceramente Ma mi metto in spectator guarda Eh ma secondo me non ci sta un'altra strada Cioè Sì sì Ci dovrebbe stare Ciao cocco Cocco bello cocco Cocco bello fresco Ti fa crescere il pidello Cocco bello cocco Cocco bello cocco Ti fa crescere il pidello Ma sai che mi sa che in realtà c'hai ragione Ed è finita così Eh dai Oppure 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 In poschino In poschino di scrivere ciao Devo studiare Che vale A quest'ora si studia? Eh? Non si studia il pomeriggio Bluiei Aspetta un attimo Blu Eh Tu stai Ma stiamo deficienti Perché? Aspetta Come Possibile che ti muovi? Dove sei? Ma Sai che dove sei tu? Che Prende sono anch'io È la nuova zona Infatti Infatti vedi qua È la nuova zona questa Ho trovato una chiave Perché ci stanno pure i letti Non so te come abbia fatto Che manco io mi so accorto in realtà Questo lo spawner Non avevo voglia Però restati Con piglio Fatti Ah vabbè Ci sta dai Ma La tua attività Dove è? Picchiare Sto morendo dal fuoco Uh Chiavi Me ne hai prese tu Bastarda Sì Ma mi hanno aggiunto una fontana Ma la fontana che c'è sta E non c'è spazio Non c'è più spazio per nulla Dicene lo spazio Senti ma Menomale che hai detto Che non vorrei andare avanti Perché sennò ti perdevi Aspettami Che qua è pieno di roba Mi sa che sono salita troppo Eh aspetta infatti Non c'è nulla su Sì che c'è qualcosa Aspetta Qua c'è un piccone Qua ci sono pure tre letti Vabbè Un'altra chiave Che chiave? Di che colore? Normale Sopra ci stanno altri spawner Vieni 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 Oddio Non entrai in questa porta E' pieno di spawner Prima uccidiamo questi Non ti farei tre che prendi fuoco Me ne sono accorta Forse era meglio dirlo prima che ti facevi stare Effettivamente Non ti mettere in mezzo Che io vedo tutti così Ecco così Stai dall'altra parte Ok è morto Ok è morto Ah sentivato anche questo Sei morta È una gara di cecchini ormai Ahia come cazzo c'è arrivato questo vicino a me Non c'eri tu a fermi guardia E beh ce l'ha con te non con me a quanto pare Senti non mi morire che tu c'hai le chiavi Le chiavi servono Quindi mettili in un posto Nel caso Aiuto Sai perché ti ritrovi piena di frecce e di Grazie per il forno corti E di ossa Perché Nel caso Ti cerca lui Aspetta un attimo Ora tipo si mette avanti a una cecchino Stati ferma Ok Un è andato L'altro Non lo vedo più Aspetta un attimo Stavo dicendo Grazie a me per il follow Benvenuto su Twitch A posto Ah Aspetta Aspetta Ah è venuto lui da te va bene Ho una cosa per te Ciao posso entrare Certo che puoi entrare Fammi mandare Che altro non dovrei mandare effettivamente l'ip pubblico Che cosa hai per me Ho una cosa per te Alla dipende Alla Corsfield sei da Da console o da pc Perché puoi entrare da entrambi gli dispositivi Ma ti devo mandare due cose diverse Hai finito Guarda Vieni Ma che cosa mi devi dare Non ti vedo Tieni Vai avanti Uh smeraldi Ne ho 52 Aspetta un attimo A posto Bici Mi riconosci Funagalli Mi ricordo di te Funagalli Mi sei Hai altre chiavi Che da prima ora Ah si ce l'ho C'è l'altra chiave Aspetta Allora Aspetta mi sento un cavolo Aspetta mi sento un cavolo Aspetta mi sento un cavolo Insorba Ho già la bedrock Vabbè ma mi interessava Perché se no dovevo chiedere L'altro IP Altre cose dell'IP Allora dammi un attimo Che cerco l'IP Che stava Oddio quanto è grande Non è una roba Minecraft Sul zero Aiuto Ah Zaffi Lo sento addirittura io l'alert Vi rendete conto E io non dovrei sentirlo Non so come sia possibile È altissimo Ti giuro Ma sistemalo Dove servono i chiedere La spezza La società Eh non lo so nemmeno io Le otto Non le trovo Ok Ecco l'IP Questo è l'IP No 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 Quando si entra Dai alerti a basso Che se no misturano i timpani Allora poi Corfield se vuoi venirti al mio server discord Dove magari mettiamo Novità sui server Sul server O cose inerenti anche al server Nel caso va off Lo scriviamo Ok ho trovato Uno robot per le chiavi eh E non c'è solo quello eh Dov'è il robot per le chiavi Dove sei? Eh Da me Grazie Grazie Per il follo Aspetta cosa chiedo E quando Perché non mi arrivano le notifiche In tempo Ahiaia Ho sento un bite me Ahiaia No Dove cavolo sei andata? Non andare là Ho detto Torna indietro Ho aperto Da me Ok Semmi dietro Vedi là Dobbiamo andare là sopra Ok Com'è questo server? E' un server survival Ehm Dove potete entrare E' un server Fatto fra amici Amici Vabbè amici e follower E' pagato Quindi non darà nessun problema Di lag Non è fatto con Ternos Noi non facciamo le cose a patate Quindi se vuoi inirti Lippi sta lì E se vuoi inirti anche al server discord Aspetta un attimo Stammi lontana che tu sciuri Che nel caso il server magari va off Cazzo aspetta Servono quelle blu di chiavi Eh si Stavo dicendo Nel caso il server va off Ci sono aggiornamenti Scriviamo tutto su discord Quindi se vuoi entrare lì E non scriviamo solo di minecraft E' anche altro Molto altro Molto altro ancora Senti sali sopra Vediamo se c'è sopra Un giorno capirò cosa cavolo serve Per quella roba Oh questo però si sale ancora di più Allora tutti quelli che si sono appena followati ragazzi Vi invito a seguirmi anche su youtube Perché ho un canale youtube E sto cercando di crescere anche lì E se volete anche tiktok e instagram Quindi Mi trovate con lo stesso identico nome di qua Hai trovato robe Dov'è l'ip? L'ho pingato E' quel numero lì Però giochi da console Telefono Java o Bedrock Perché potete entrare sia da Java che da Bedrock Ma dobbiamo dare due cose diverse Scarpa vieni qua Metti tutte le robe che non ti servono in questa cesta Non tutto tutto Intendo le cose che abbiamo trovato che non ti servono Non le li tra Quella magari può servire Ok Le faccio Sì ho fatto Ok mi giulo tutto Addio Ok Torniamo indietro Qua possiamo avere Guarda io ho altre 4 chiave Come altre 4 chiave Ma ci credo Prendi tutto Troppa Troppa Che le apro io No non posso più aprirlo Ma qua Ha scavato dopo 9 di batteria Va bene Già ho già dalla beta lip Ok ora ti mando Rimando l'ip Porca trota Che infarto E non c'era neanche un virus E neppure ne Zau E neanche Midori Ha fatto bene Non ci voglio credere Vieni qua Arribo Vieni giù Piripipiri Pipipiri Pipipipipipi Ok Buttati Dobbiamo andare Per di qua Tra l'altro Cosa più importante Direi Il server È aperto 24 ore Su 24 Quindi potete Giocarci Quando volete Dov'era Quella porta Che tu non dovevi Aprire Dall'altro lato Eccola Sei pronta Aspetta Oh Ho aperto Perché entro Lo equipaggi Lo scudo Scusami Cioè È una cosa Usa Aia Ah Questo armato Ha un armatore La porta La porta Stai fuori Oddio Ho un problema Mi servi tu Sono un po' in tanti E mi fanno Pure danno Da caduta Ah Questo è il vestito Gucci God È morto Ti sei messa in mezzo T'ho preso una spadata Cioè L'hai le mele d'oro Nel caso No Grande Senti Non ti avvicinare Agli spawner Quando li finiamo Perché Dobbiamo vedere Che droppano Perché Dove Vedere Se Troviamo Quelle cazzo Di chiavi No Dai Che cliccato Che ha Spisciato Tutto Ma che ne so Io Io Do Aiuto Panti spawner Ma Non so Se sei stata tu Sei vero Tu ti metti in mezzo Quando io do le spadate Ma che cazzo Sto provando a fare Sto provando a fare il mio meglio Giuro Aspetta Ok ho tolto D'acqua ho tolto Ok Dove è Dove è Ma è un bastardo De merda Comunque non abbiamo Trovato lo spawner Con i ragni Non c'è qua E meno male direi Eh no Però serviva Mi serviva per una farm Quindi se si trovava Ok Dove è finito Non lo vedo più Morto Sì Hanno droppato anche del pane Ah c'è un altro È ovvio che ce n'è un altro Aia Aia Pezzo di merda Mori Godo Ci siamo tirati una spada vicenda O te l'ho tirata solo io a te Me l'hai data solo a me Però non mi hai fatto nulla Oh Tornato vivente Dove è finito Stavate un attimo Aspetta che ti chitto Se no Ti chitto Oh Morto Zaffi Non conosco la lingua degli dei Spostati Spostati Ok Niente chiavi mi sa Ne ho solo una Te hai droppato chiavi? No Zero di zero Ai 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 Fitta Zero nada Lì niente? Zero E niente? Allora volendo possiamo rifarlo eh Perché c'è le pozioni che la riavviano Uno però Non tutti No tutti Riavvia proprio dungeon Teoricamente Perché è un effetto Che si prolunga nel tempo È lampone infusa Sì E non è infusa Nefasta C'è scritto E oltre Si chiama cattivo presagio 2 Però vabbè Ma ne bevo Cosa? Ma bevo io Bevo io Bevo io Posso bevare io? Ma entro Sto riavviando Sì Eccolo Oh che cos'è sto zombie con sta armatura Perché questo Oddio ma Perché è vestito Gucci? E lo sai perché? Perché mi sa che hai preso Una pozione Quella di livello Peggiore Che potessi bere E quella Ma sai che forse si trovano le robe che mi servono? Mi senti sì Ok va bene così Oh perché è quello vestito? Non lo so Quello ha una certa se è vestito Prada Gucci Prada Senti Questi cosi sono più forti C'hanno la spada in diamante C'hanno Non l'avevo mai vista sta roba Porca troia Perché ora pure gli slime? No No c'è pefi zombie Pefi zombie Stammi lontana Che io se non ti ammazzo per sbaglio Eh sì Mettiti in un angolino un attimo Ahia No mi stanno uccidere Mi stanno uccidere Esce 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 No no A uscire non si esce Esci Senti io c'ho le peggio robe Non posso morirci così facilmente Tu Io sì Eh per questo io dico non esco Esci tu Cazzo mi ha fatto volare Porco tu Mi stanno spallottolando Aspetta Mi serve il tuo aiuto Scappa Scappa Chi di la porta È molto baby zombie Codo Allora Allora ho un piano Metti in blocco qua No 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 Aspetta Aspetta un attimo Mi do il sistema alimentario Prima Ok Ho una mela d'oro Questo va bene Questo è OP come roba Cosa sono quelle parole In tutte Guardate questa che usa Il lifehack Senti faccio prima io Spostati Che c'ho Faccio più danno Madonna ma è lento Comunque Dovrei attirarli Dovrei tipo entrare Attirarli Senti ma il blocco Lo puoi mettere pure Davanti alla porta Vabbè No Cazzo Cazzo Tipati subito Tipati subito E dammi una mano Ti sei dimenticata Che pure da dietro Arrivano Aspetta Aspetta Ti ho detto che si riavvia Tutto il dungeon Facciamo prima questi qua Che sennò ci arrivano Da dietro Ah ma si Si riavvia tutto Quello che c'è intorno Eh si Ti ho detto che si riavvia E me l'ho dimenticato Però di dirtelo Cioè non di dirtelo Di Ricordarmelo Che qua Moriamo Ho perso il metto Senti mi fa niente Che sto morendo Ti prego salvami Sposta Ti da cazzo Oh Non sto rischiando Da così tanto tempo Che porca tre Fa strano Ma come state citando Ti levi dalle palle Che devo chiudere Sto coso Prima che arrivano gli altri Si opera Ti da cazzo Occhio C'è un lì Ma poi perché c'ho tutta Ah sotto Sono questi i tuoi oggetti Aspetta C'ho un'accetta tua Questo è tua Per il resto Ah ho trovato il metto Ce l'avevo io Tieni E uno è risolto Ok Ok ho trovato lo spawner Ah ma forse questi Quando sono blu Gli spawner Sono più difficili No E Ma Ma droppano le chiavi blu C'è la possibilità Che droppano le chiavi blu Quindi Serve Per fare Per trovare l'oggetto Che serve a me Non aprire C'è le chiavi blu Le chiavi blu Le chiavi blu Le chiavi blu Ho una missione Ok Prendila 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 Che quella ci serve Se riusciamo a fare Quello che ci serve Va bene Ho fatto un Un achievement Che non so nemmeno Di cosa sia Ma Hai fatto contraccolpo Sono due chiavi blu Due chiavi A posto Ti conserva Non mi morire Ok Ok Se sono solo tanto Scheletri Si può fare So a posto Se sono solo scheletri Ciao Tobi Senti Pensaci tu Ma tirano veleno Sti cosi Si Tornano vivente Che è Tutto Sto Maradam Di slime Hai spark in zero Ovvio che ho spark in zero L'ho pure portato in live Poi è sparita per due settimane Ho altre due pozioni Mo le bevo Magari sono buone Eh ma sono appunto quelle lì del dungeon Per fare il dungeon No perché le bevute Non le ho bevute Perché sono così scema Eh beh Oddio Oh altre chiavi blu Altre chiavi blu Dai Ok ok A posto A posto Aspetta un attimo Che io qua c'ho Della roba Comunque Come mai la domanda Se lo spark in zero Ciao Mini Farru Ah senti Vogliamo liberare di muoi dungeon Oppure vogliamo aprire le chiavi Cioè usare le chiavi Si mi concordo Cosa Eh Uno che scrive su tiktok Dai usiamo le chiavi Che dici Le sto usando io Che hai trovato Me Otto smeraldi Vabbè smeraldi poi Un blocco di ferro Mela d'oro Mela d'oro e poi? Frecce, sembra Ah no, i cosi di... Uh, diamanti, diamanti, altri diamanti Perché non mi posso muovere? Ti sei seduta sul blocco, scema Ah Fai shift Non ti ricordi nei comandi tuoi? No Ok, vabbè Dobbiamo trovare altri punti dove inserire le chiavi, quindi vieni Ah, però devo dire che comunque sono davvero buoni, eh Mi hanno dato un sacco di diamanti, otto diamanti No, cinque Vabbè, un corsetto di diamante, va bene lo stesso Qui invece c'è un problemino Cioè? Ce ne potrebbe dare altri, ma non spuna No, è perché stanno sotto il mob, però vieni, vieni Non fa niente E se li colpisco con le frecce? Dopo ci pensiamo, su vieni Dove sei? Ti ho perso? Oh, mi ha dato... Oh, aspetta, 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 mi ha dato una roba nuova Un rivestimento per l'armatura nuovo Non ce l'avevo Questo si mette alla mia colazione Questa è rara Ora se la mangio, apri bene Ho anche lampolla, cattivo presagio 5, cattivo presagio 2 e cattivo presagio Oddio, cattivo... tu qual è bevuto? Te lo ricordi? Mi sa più cattivo presagio 2 Due Eh minchia, se prendiamo cattivo presagio 5, allora qua finisce di merda Prossima volta dobbiamo farlo con cattivo presagio 5 Prossima volta o adesso? Adesso no, siamo soli in due... e ci stiamo facendo il culo Mi devo preparare mele d'oro Per sicurezza Se no, facciamo una brutta fila ogni volta Senti, hai visto che stanno i mob qua? O sei liberata la zona? Eh, si è liberata Come è morto il cane? Bite me Oh, grazie per il follow to Twitch Benvenuto, benvenuta Ciao Miriam Come va la vita? Ma si è fermato Ah sì, si è fermato un po' Penso No, mi sa che abbiamo ucciso i mob Però ti è ammazzato da solo O è scomparso, non lo so Vabbè, andiamo nell'altra parte del... Del coso Il dungeon, vieni Da qui Dove sei? Qua Piripi 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 Hai finito di caparti esatto? No, non è qua Senti, io... Oddio, qua c'è uno zombie Aia Ma perché Miriam? Ma perché? Ho visto che è un po' tardi Il momento non ho capito se possibile fare un salto a casa mia Quando ti ho mandato messaggio impiato Mi sono svegliato Ora sono svegliato Anzi, io mi per... Ma che è, Miriam Ma quello che scrive Google Ma che cavolo Comunque Miriam, come mai dici così? Piripi 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 Non posso salire Cioè, posso starei salire Ma non posso Vedi il mio nome? No Ritorna a prima Dove c'erano gli spawner Perché è meglio così Ma non è vero Beh, sto lanciando Lancio i razzetti Ti ho sentito Aspetta, guarda Li vedi i razzetti? No, li vedo Tu mi vedi? Aspetta Eh, cazzo allora Qua Guarda, aspetta Ah, io sono caduto giù Ma stai su, giù Dove sei? Non capisco Sono giù Ritorna dove sto io Guarda il mio nome Devi guardar giù Non lo vedo Ah, ma tu c'hai Quelle shaders di merda Ovvio che non vedi un cazzo Non è vero Vedo Però non vedo il tuo nome E sono colpa delle shaders Comunque stai salendo Non stai scendendo No, comunque davvero Fanno schifo con le shaders Oh Fanno proprio cagare Che caga Dart Cassimile per il raidino Cioè, guardate che io la devo raccattare Eh, stai arrivando Stai arrivando Buttati Fai Dream On Ci muoio Tu si Io no Water bucket Water bucket Non ce n'ho Water bucket Aspetta, ho un'idea Mamma mia Non sei morta Va bene così Dai, giù Tieni una carotina Dove sei? Sali Dove? Se sali troverai Madonna Vuoi pure le indicazioni stradali? Ovvio Non lo so Oh no Qua ci sono di morire Stavo per bermi per sbagliare la pozione Non ci provare Mi per mezzo cuore Porca miseria Vabbè Pensaci tu Che questi Se ci muori Rido Oh, bastardi Oh Blocco io Queste sono tutte le tue caccole Ma soffieti il naso Ma soffieti il naso Blu Che schifo Mi soffie il culo Va bene Miriam Comunque raga Lo slime serve a me Vai Magna tutto lo slime Tieni Esmeraldi li vuoi Comunque raga Vi ricordo che Ho anche un canale YouTube Quindi niente Mi assicuro anche lì Che piano piano stiamo crescendo E TikTok Instagram Mi trovate con lo stesso Identico nome Ho ucciso tutti Così mi sai Eh sì Ha dato pane E Cibo Che palle Niente di Di chissà cosa Sinceramente Proprio Meh Meh Torniamo ancora indietro Magari indietro Respawnano quelli Ecco qua Sono rossi Spawner Niente di che Vabbè Io faccio diventare blu No 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 Non c'è a bere Oh no L'hai bevuto È diventato blu Cos'è diventato blu Ho avuto la prima Come la prima Ah ah Ai 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 Guarda che ho avuto Soltanto la prima Vabbè Meglio così Potevo farti tranquillamente Quella del livello 5 Ma ho detto No vabbè La risparmia Non sono così Oddio pure questo È diventato blu Oddio Sono spawnando Con l'armatura Oh Grazie per rifare Su Twitch Qualcuno Si asfracella Tizio caso Benvenuto Oddio Odoro Sto nome Oddio Uno è spawnato Con l'armatura In diamante Non ci voglio Credere Ah Ah ma questa Sei tu Levati Che ti sto colpendo Per sbaglio Penso fossi Una di quei cosi Eh sono tornata Dall'oltre tomba Ah ma te sei morta Ah Ma basta un puff Io sono un puff Ma io sapevo di essere Sei morta No Ho avuto soltanto Unità del cazzo Che cazzo Oddio Perché i silverfish Oddio Ma era di livello Uno Sono iniziando A avere i dubbi Eh Ma no Uno ti ha rubato Tutta l'armatura Ti ha rubato Tutta l'armatura Mi ha rubato Per il loot Ah ecco cos'è Che si trasformano Gli scheletri Si trasformano In silverfish E dopo che muoiono Oddio Mi ha rubato pure la spada Sto baldracco Ti ha rubato tutto Proprio Raga ma gli scheletri rubano Sti ladri Ovvio Voglio rubare al rumeno Rubate ai rumeni Vuoi rubare me? Tu vuoi ingiulare me? No no Ok uno si è spento Ma l'altro non Non mi ha Per un attimo dopo Ora che ho avuto Quello con 5 Invece no Ai 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 Come cazzo c'ha Ai 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 Sei rumeno Esatto Qua c'è il tuo Ah non c'è niente Scherzo sono tornata Bentornata Miriam Precisamente Albania Oddio ma Albania Non è in Romania Albania è un'altra cosa Beh sono Sono due stati diversi Vabbè No no mi sono clicciato Aiuto Chi cazzo è che Mi ha aperto le Dammi una mano Ok Cioè mi ha Mi ha aperto Le botole Mi sono incastrato Io ti ho riaperto le botole Tu hai aperto le botole Non lo so se Com'è le ho aperte Erano Erano Non partire Ho chiuso Ma che sono ste pozioni Che ogni tanto volano Non ne ho idea Albania provincia di Ucraina Aiuto Sono confusa Ma fai anche server Guarda che il server è aperto a tutti Se vuoi ci puoi entrare Senti prendi quelle staff Che vabbè Non servono a cazzo Ma guarda come vuole a sto coso Oh mini tornado Io non ci sto a capire Cazzo da Sto mob E' come mia madre mi descrive Ancora spona poi Ha rotto le valde Mia madre quando mi descrive Mi scrive come sto mob Ma il commento Pinnato cos'è E' l'IP L'IP del server Però prima di Entrare nel server Vi invito a entrare nel server discord Che è molto importante Perché se il server verrà Chiuso O qualsiasi cosa Problemi o altro Verrà Scritto lì Tieni prenditi qua Che c'è la carne Semania E ce n'è ancora L'effetto della pozione No Vi amo Aiuto adoro Io direi di fare una cosa Bevo quello di livello 5 Se volessi entrare nel server Se vuoi entrare nel server Puoi farlo tranquillamente Eh che dici Vuoi che bevo quella di livello 5 La bevo io No io la bevo E tu combatti Ebbene Tanto dobbiamo combattere entrambi Vedi eh Buona fortuna Mi nascondo in un buco Non berla L'hai bevuta No Sì o no Che devo Piazzare una cosa Che posso perdere Sì Sennò L'hai bevuta Sì Ma perché non parte Ah Scommiti che si vado di qua a parte Forse perché abbiamo Sì Infatti dobbiamo andare nell'altro Finché c'ho l'effetto Se ne è spiegata Vabbè Ma vedi che io ne avrò Un centinaio di ste robe Non mi serve un cazzo Ma perché io c'ho due secchi di d'acqua Che mi serve perché c'ho due secchi di d'acqua Perché uno era tuo Infatti non me ne manco ridato Infame E qua Oh si è attivato Vieni di secchio Vieni qua su Non ci fanno il culo Adimo gli slime Ma per gli easy Ma che è questa cosa Fu riuscita Ma per il mosa Ma che me esce Fu il dosenno dal culo Non lo so Oh ma non sei romana Sei di roma Sì sono romana Si sente Perché si dice che una live Ma che ne so io Perché Stavo per di cose bannabili Che cosa Tiktok è un po' Riki Capisco Capisco Meno male che sono slime Sono diventati da mazzare Aia Ma beh penso a quelli che cascano a sto punto Buttameli giù Sì sì Tranquillo Non è male lo slime nel culo Dici Bello melmoso Che ho trovato Quante cacole Blu Soffia di quel cazzo di naso Che qui cascano tutti Tutte cacole Non lo so E ti vieni qua Vieni qua che c'è la carne C'è io boh Blu c'è Baccati addosso Scaccolati di meno Per carità Un po' meno caccole Questi sono tutte le caccoli di blu Certo Hai ancora l'effetto della pozione Sì Ok Come si faceva Andare e andare sopra Ma manco io L'effetto mi dura ancora Ah un minuto È un minuto sì Eccola qui Un'ora Sì un'ora Un'ora e mezza Che versione è Dovrebbe essere l'ultima L'ultima rilasciata Aia Oh no 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 risali bloccati Fai qualcosa Che qua è pieno di mob Ci sto E ci stanno ancora Quei polli di merda Ma ripollo Ho ammazzato un pollo Ah non so che piace di salire Sì è un'ora Ok Ma attenta che c'è Per lo spawner Un pollo giù Ho notato Posso fare Aspetta non ho capito Ah No voglio leggere un attimo chat Ma che potete scrivermi un chat di twitch Per favore raga Posso fare una cassa sull'albero Su uno dei tuoi alberi Una casa Ah una casa Dislessa Porta via L'ho letto Notte notte Comunque raga Vi invito a seguirmi anche su youtube Nel caso l'avete fatto A quelli che si sono appena followati Porca miseria Mori Pasterdo Quanta aggressività Neanche a far così Ti giuro che piano Lo sai che l'hai appena riattivato Passandoci vicino Per questa cosa Cioè letteralmente era disattivato Che l'avevo appena fatto Mi hanno lanciato una pozione Ho perso roba Dove hai perso roba Sì E là Ci sei morta Ma io le vedo le robe Sono un po' di in giro E sono sopra Ma sono esplosa così tanto pane D'avere buttato via tutto Sì Sei pure ciecata Se è per questo Ho notato E meno male che hai gli occhiali Ma meno male con gli occhiali da vista Sì Veramente Senti Me l'hai ammazzato da lontano Perché mi sono rotto le pare Quanti anni hai? No no Ora voglio sapere quanti anni mi date Un curioso E quattro Aia Pessi di merda Po' amare Di quelle zoccole Poi non prendono fuoco Sti infami O che siete Del ghiaccio Scheleti del ghiaccio Ma siete proprio Zoccologi Aia Senti ma quanta Quanto c'è Dove Quattro c'è Quattro c'è Non morire per due secondi Quattordici Il server è h24 attivo Esatto Aspetta Se non ci muoio troppo Basta mi nascondo in un blocco Sto qui No no aspetta Ho perso l'arco Vabbè sti cazzi Sto qui Tessitura e lentezza Oh ma non c'è più l'effetto quello lì E' ovvio perché da punto a trattare Cattivi l'erobe si finisce Porca troia Meno male che c'è l'armatura buona Vaffanculo Pessi di merda Ah aiuta Arrivo Lasciatemi sola Lasciatemi sola Mi sono rotto le palle di fare Di uccidere sti cosi sai Pur io Appena finisco sti cosi Me ne vado Vaffanculo Comunque La metà Sono 18 anni So che non li dimostro Anche se mi vedete in faccia Non ne dimostro Se volete vedermi in faccia Andate su youtube Perché ci stanno i video Anche su tik tok Non le vecchie live Esatto le vecchie live Perché non uso sempre il vtuber Non vogliamo sapere Né dubbio E che Già quello dell'altra volta Già quello di ieri Se vuoi venire vieni Hai preso le chiavi Io sto cercando Il gioco di scrivere Perché E vuoi fare tipo Quello che scrive ai computer Aiuto Sì tu sei quella che scrive ai computer Non ho mai computer Loro penso Uno di loro O stanno Stanno socializzando fra loro Ah Una pacchione di forza Terracing Io studio informatica Ho anche Sì sì L'avevo notato Stavate parlando insieme È blu che è scemo Che non capisce Sto scherzando Eppure ti prende in giro Uno manco può scherzare Va a fa' il culo Mi ha scrocchiato la capa Senti ma Ma sti così Non sono troppo Più le chiavi Eh no Posso rare rare Prima abbiamo avuto culo O dopo un totto Finisce Aspè non capisco Io non capisco Se adesso ce l'ha con me O no Se sto parlando con me o no Dai sono non caduto Sì io cado E tu mi segui Senti andiamo via va Usciamo da sta merda Io ho ancora 12 anni Devo scegliere ancora una scuola Allora io ti consiglio Di informarti bene Perché una volta che hai scelto Cambiare l'indirizzo Poi è Un po' tosta Più che indirizzo Devi informarti su Che scuola proprio hai O hai a disposizione Quello che hai a disposizione Ovviamente E poi che cosa vuoi fare Anche perché se Anche perché penso Che se io avessi dovuto Se io avessi Ho scelto un po' meglio Penso che mi sarei trovato In meccanico Infine Se avessi saputo meglio Cosa c'era Ho sprecato E poi avrei fatto Non mangiare Mentre sa Cadi giù Ti prego Ok non faccio più Cioè ma meno Acco facciati Se lo devi fare Non sono scema come te C'è 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 c' Torra dietro! Vuoi passaggio? Cosa fa il tuo amico? Tu sei il mio amico adesso, vedi? Sei pure il mio amico. Tu sei un pezzo di merda. Tu sei un pezzo di merda. Mi fa morire che io ti uccido comunque. Ma quanta vita avevi? Avevo due cuori, pezzo di merda. Madonna, ma curati. Ma sai che sono sempre con uno sputo di vita. Non hai senso di sopravvivenza. No! Ti segui un maniaco e preferisci... Ti fai il cile, non lo so. Sì! C'è l'hai ancora il diamante? Vai. Ti chiedono che fai? Rispondi? Come? Che faccio? Che vuol dire che faccio? Che cazzo studi nella vita? Ah, beh, in quello io non pensavo su Minecraft. No, nella vita tua che fai. Bravo. Ma perché sto tornando qua? Non c'ho cazzo qua da fare. Secondo me perché vuol dire volare. Dai! Che c'è? Madonna, fino a qua è arrivato tutto troppo. Vedi qua? C'hai le robe qua? Oddio, ci sono i zumbini. Poi mi dite... Quanti scheletri? Comunque non serve che scrivete... Slash sit. Basta che... Oddio, scappa. Basta che... Ci stanno i crepper. Non posso scappare, sono in game mod per raccogliarmi la roba che mi hai fatto... Ma perché è pieno di mob qua? Ma che cazzo di problemi c'ha sta zona? Boh, è un concentrato di mob. Mi spieghi fino a dove è volata la mia roba? Tanto! Era sugli alberi, controlla bene. Ma hai shiftato? Sì, ho shiftato. Ma io con chi sono fidanzata? Fallito! Ma l'ho fatto di proposito, vedi? Che cosa studia l'informatica? In realtà io ho mollato scuola. Ho mollato e ho... Sto ricominciando in un privato. Senti, qua c'è la spada delle robe, vieni. Sto ricominciando in un privato perché almeno... Almeno mi si cagano i professori se dico non capisco, invece che dirmi fai ripetizioni. Cioè, a sto punto pago per prendermi il diploma direttamente... Cioè, per prendermi il diploma, vabbè. Per capire le cose al volo. Pago per prendermi il diploma. Certo, vado lì, pago, faccio sentire, dammi il diploma e basta. Hai preso tutto o ti manca qualcosa? Io sono un professore. Quanti anni hai, scusa? Voi l'ha preso per il culo. Senti, sali. No, non mi fido più. Sali a bordo. Sali a bordo, su. Non mi fa salire. 32. Non ti fa salire. Serio, 32. No, non mi fa salire. Hai puoi salire? Mi hai buggato. Mi hai buggato. Non posso salire. Tanto cielo, mamma mia, sempre tanti problemi. Sali ferma. Allora è andata. Sì, vai. Non farmi più cadere. Ti prego, non farmi più cadere. Ti metto in mezzo alle che pecore, guarda. Visita il mio sito. Mandamelo. Aspetta, ora vado a visitare il suo sito, sono curiosa. Cioè, vado da telefono, perché PC se no mi va a quel paese. Oh no, mi sto schiantando. Voglio dare una roba nel frattempo che volo, va. Quanto tu stai a cercare la roba. Allora. Vi verdo, lui ci verde. Lui ci verde. Ci verde nel cielo. Ah, vedo che hanno fatto un ponticello. Oddio, l'ho trovato. Eh, ma c'è uno smeraldo. Come lo prendi? Come cazzo fa qua a esserci uno smeraldo? Allora, io sono un po' deficiente, quindi non sto capendo di che si tratta il sito. Ah no, aspetta, c'è scritto consulente web. Non è che sei deficiente, sei ciegata. Ma pure tu vedi qua che c'è uno smeraldo. Eh, in questo sito si, escono un po' di smeraldi. Raga, ma chi è tutta questa gente che si sta unendo? Ma gli avete mandato il sito? Non è. Cioè, gli avete mandato il IP. Sadi. Oh, la mia azienda. Dai, e... Beh, hai fatto carriera, dai. Io... Ti ho lasciato proprio la punta. Sto cercando di dipendenti zona Roma. Io non ho un diploma. Dubito che posso essere abbastanza decente. Ma dove sei finita? So super di te. Non ti vedo più io. Penso che fossi urlato giù, aspetta. No, sto su. No, io non ti vedo. Se non mi senti urlare vuol dire che sto ancora su. Ah, strano. Ma io potrei perso morire. Scendi. Dove sei? Ah, ora mi sei comparsa. Ma che cazzo? Purtroppo non conosco qualcuno in zona Roma che fa queste cose. Senti, dimmi dove andare perché non so che fare. E... Boh. Rifacciamo l'ender dragon. No. Mamma mia. È più facile di quei dungeon. Io pure dovrei essere in quarto superiore. Peccato che i professori mi hanno trattato di merda. Ma ti lascio nella lava. Ciao. Io. Comunque io e la scuola abbiamo avuto brutte esperienze. Addirittura mia madre... Se non studi. Oddio, non era una cosa non studi. Era una cosa del... Ho dovuto cambiare scuola. Ero indietro col programma. E... Ho chiesto aiuto i professori. Me l'hanno dato di merda. Quante... Cioè la loro risposta è stata devi fare ripetizioni. Ok, dopo che io mi sveglio alle 5 di mattina per prendere il treno. Cioè tipo 40 minuti di treno. Farmi un'oretta di camminata. Tornare a casa anche tardi. Fare due volte a settimana. I corsi e i PCTO. E avere soltanto la domenica libera. Dovevo anche fare quello. Anche ripetizioni. Ho fatto prima iscrivermi al privato. Ah, io non ti vedo più. Do cazzo stai. Sto qui. Sto gioco è sempre più baggato. Ho perso l'itra. Ah no, eccolo. Ma ti vedo. Sei visibile per me. Dammi un pugno. Sei protetto dal P.U.P. Piazza un blocco che io non ti vedo. Non me lo fa pensare perché è di qualcuno. Eh che palle, madonna. Senti risari se non stai giù. Ah, ora ti vedo. Ciao. Ciao. Ti abbandono. No. Ciao. No. Ma tu stai volando in un'altra maniera, vedo. In che senso. Ti vedo tipo volare camminando. Tipo che sei in game mode. E niente. Il divertente è che tu non fai proprio un cazzo. Cioè proprio posso fare la qualsiasi e non ti si leva. Sì, esatto. Non ho più razi, ne ho uno. Non ci arrivo. No, non ci arrivo. No, non ci arrivo la struttura alta. E niente. Aspetta, 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 aspetta. Rimediamo subito. No. Aspetta di scendere. Comunque raga, vi avviso, se volete far entrare anche i vostri amici sul server, potete farlo. L'unica cosa è che vi chiedo magari di farli followare su Twitch e YouTube. Tanto è gratis, non vi costa niente. Giusto per darci una mano a crescere. Anche perché il server... Perché ci stanno dei cammelli. È lunga storia. Anche perché il server che vi offriamo è pagato, quindi non lagga. È aperto H24 su 24. È disponibile sia per Java che per Bedrock. C'è tanto lavoro dietro. L'unica cosa che chiediamo è qualche follower. Bella mappa, un po' incompleta, ma bella mappa. Ma... È perché è... Sono a nuoto. È perché ci sono i blocchi invisibili. Sì, sì, va bene. È domenica che possa uscire. È vero. Sì, sì, è vero. Ma ti faccio discendere così volando a terra. Mio... No, ti prego. Mio... È trauma ormai, eh? Sì. Vabbè. Ti ricordi che c'era una bella statua qui? Eh, che è stata? Comunque, ma non mi ricordo qual era il comando, ma potete comunque claimarvi le... Cioè, addirittura il claim delle robe, quindi... Me stai... Cos'è? Acchiappa la... la mosca? Non riesco a prenderti perché lagga. Madonna, però, vaffanculo. C'è un arco troppo potente, a quanto pare. Ma possibile mai che io con qualsiasi cosa ti uccido? Ti giuro, se mi hai fatto cadere robe importanti nella lava... Sei un... No, non lo so, non mi interessa, è colpa tua che mi scassi tutto. Pianza di me, mi viene a prendere, aspetta di tipo. Basta, no, basta tippare, ogni volta tippare. Non so dov'è. Faccio da taschi, faccio da taxi, ma culo. Ma faccio da taxi. Se non so dov'è... Ma te lo riprendi piccone, me lo prendo io, guarda. Facciamo un fight. Io mi oppongo, vado con lui il fight. Sono troppo scarsa. Ehm... Muoio. Dovresti metterti la Keep Inventory, te guarda. Sì, solo per me. Perché tanto... Guarda. Vuoi rischiare a prenderti un colpo di spada per vedere quanto... No. Rivolgo. Dai, 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 uno solo, tanto non muori. No. Spero. Dai. Provalo su di lui. Dai. Penso... Per un attimo pensavo che vola via. Eh sì, su di lui è ovvio che muore. Dai. Aspetta, mi sposto di perché tu rischi. Senti, no, mettiti qua perché io ho paura di ucciderti. Quindi se prendi il loot, devi stare qua. Vado. Non posso prenderti, mannaggia. Ti proprio... Però mettiti qua, visto che dove sei morta. Qua puoi. Allora, aspetta. Lui vuole fare 1v1. Ti ha di presto la mia armatura. Di presto le mie cose. Poi me le ridai dopo l'1v1. E ti do un kit vero. Sì, ma è finito il polletto, vabbè. Poi ti do un vero kit. Sì, ma mi sa che... Aspetta un attimo. Aspetta. Dammi un pugno. Eh. Dammi un pugno. Eh no, aspettiamoci. Mettiti eco pure tu. Eh, forse... No, no, c'ho i phantom che... I bastardi mi picchiano i phantom. Aspetta, vado a dormire. Ah! Mi ha fatto cadere. Eh, sta andando a me che ci sono i phantom che lo inseguono. Trascendo il fatto che poi qua c'è pure una... Capito, tu fai così perché sennò questi bastardi mi fanno cadere. Madonna. Vai, vai. Quattro cuori ho perso. Ehi, Andrea, bentornato. In teoria basta che uno dorme, no? Sì, ok. Certo. Gli diamo una spada incianta, vada. Ma senti, allora... Vuole fare un vino con te? Io non voglio morirci. Se muoio del coso e perdo le robe. Anzi no, vabbè. Vieni qua, mi servi come test per vedere se qua c'è la zona... Come si fa ad attivare la keep inventory dai comandi? Dove... Non lo so. Sì, però tu mi fa me. Mi serve come test. Eccomi. Ok, qua va bene. Il problema è che c'è un po' di roba. Vabbè. Andrò poi a me. Se no, fai una cosa, faccio una cesta e metti tutto in cesta, no? Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Il problema è che non mi tolgo nulla. Cioè, io... Posso iniziare? Ok. Non c'è bisogno di una cesta. C'è la shulker. Vabbè, metti la shulker, vai. Oh cazzo, non è che abbia tanto spazio. Vabbè, devo togliere solo due robette. No, 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 a me non mi picchiare, io non c'ho un cazzo. Vuole picchiare a tutti, a quanto pare. No, no, nulla. Vabbè, che altro... Riva la povertà. Picchierani! Violenza, lo segnami. Vai, digli di venire. Iniziamo questa fight. Vai, inizia il fight. Aspetta. Inizia. Vediamo un po' questo compartit. Ma non spostiamoci troppo verso le robe, perché la... Attenzione, ha preso fuori. Mi sa che gli... Mi sa che gli siamo un pochetto. Vabbè, qua. Mi fanno ridere i fight intensi da Bedrock, che tipo ci muoviamo alla cazzo dei cane. Vabbè, qua. Sì, ma sei infame, però. Io l'ho detto che... Io l'ho detto che forse sono un po' esagente. Tu sei un po' rotto, comunque. E non è colpa mia. Non ci ho nerdato un pochetto. Poi c'ho i villager che mi vendono di tutto e di più. A mani nude. Ma gli regalo un po' le... Cioè, gli regalo le patate. Dove sono i pidini? Gli ho persi. Non sono io scicata che non li vedo, no? No. Gli ho persi. Ah no, eccoli. Come li ho persi? A te serve un'altra visita da visitare colui. Oh, non so parlare autistica. Acustica ti serve. Con lo stesso kit. Ma non è manco un kit. Ti assumo. Non sto capendo un cazzo, però va bene. Minchia. Ma ci va pure lei, guarda. Qua non vorrei dire, ma qua c'è pure la rigenerazione del beacon. Non so quanto valga. Però... Vabbè. No, aspetta, come si faceva a levare la pioggia? Ma ne hai messo. No. Ma vediamo se riesco a fare tirappiattello. No, ho sbagliato. Non poco. È messo sera. Voglio levare la pioggia. Ah, ma io ti ho preso, ma non mi dà la hit. Senti, faccio io. Sì. No, io non voglio combattere. Sono... Frame laggo. Oggi mio pc frame lagga. A parte la mia connessione che... Fa schifo. Stranamente non mi sta crashando tutto. Raga, vi sfido a trovarmi. Però è strano. Ti sfido a trovarmi, cercami. Quanto porti di scarponi? Quanto porto di scarpa, aspetta. Non trovo una scarpa. Eh, perché perdo... Ah, non c'ho... Io ho il piede piccolo, io porterò un... 37-38. Amore... Laggi. Ah, le scede. Laggo. Oh, io sempre con le scede, esatto. Dove mi trovi? Eh, eh, eh. Eh, basta un comando per trovarti. Non ci provare. Dovete trovarmi. Mi sono pure tolto l'accompacciamento per un attimo. Perché si sta accoppiando con me questo Axelot? Oddio, l'eterno love, mamma mia. Che ricordi. Axelot si accoppia con me. Madonna, che ricordi. Io non posso stare qua all'infinito. Ciao. Senti, perché ti tipi su? Non ti tolgo i permessi. Che mi dis... Ah, scusa, 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 Andrea, scusami. Eeeh. Mi sono potuto fare un altro collab di Dorsparca Pesce perché vengo a scoprire che è uscito un'altra collab oggi. Porca miseria. Manco fa a Nightfalle collab così. Chissà se mi si è aggiornato dopo 15 ore. Boh... Io vado a fare le Ender Dragon, va? Anzi, nello spawn di nuovo è Weaver. Merda, Weaver era forte. Comunque sono le 23 e 40. 43. 40. Comunque, Minecraft è un bel gioco, concordo. Minecraft è un gioco troppo bello. Perché puoi fare il cavolo che vuoi. Poi puoi... Puoi farci le mod, puoi farci le cose. È troppo customizzabile. Ma pensate a studiare... Ma immaginate di studiare con Minecraft. Alcune scuola lo usano, sto metodo. Ah, io. Lui studia. Ma sono stato io. Lui è bravo. Lui legge e sa le cose. Io ci metto tre ore per imparare una parola. Lo fanno. Ma che? In Svezia, porca miseria. Il mio posto. Lì imparo le cose veramente. Ma io vorrei capire se la mia play è decisiva. Stava all'83% ancora. Ma non posso adottarmi. Quello bisogno se la collab esce e poi il gioco con un buttacopio di loco, ma si chiama un altro modo... Porco... Oddio. Oh my god. Tutte ste collab. Cos'è mi piaceva fare nella vita? Allora. 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 Il mio sogno è sempre stato quello di fare la content creator. Perché mi piace... Mi piace come mondo. E mi piacerebbe come lavoro. Però già ho anche il piano B. Cioè studiamo informatica perché mi sarebbe piaciuto comunque programmare, fare... Studiavo. Ho mollato e ho ripreso quest'anno. Devo... Lunedì devo parlare con la mia tutor. Ho un appuntamento con la tutor. Però per scuola privata. Studio da casa in privato. Perché almeno mi stanno un po' appresso. Eh, ci ho pensato i corsi. Però alla fine abbiamo optato per un recupero di scuola direttamente. Il gioco non è così. Ah, no, non è qua. Fatti l'ITIS. Ma io facevo l'ITIS, se non sbaglio. Allora l'ITIS, quello sì? Beh, l'ITIS... Beh, alla fine è sempre... Se è informatica è sempre l'ITIS, diciamo. Forse intende... Un'altra roba. Eh, forse intende sì, un'altra roba. Vabbè, mo' ho cominciato già sta cosa, già mia madre ha pagato, quindi... Non posso più dire di no. Sì, era l'ITIS, esatto, era l'ITIS. Ma che cazzo... Laurea. Vabbè, per ogni tempo lo sto facendo adesso. Però solo lo sto facendo in privato. In sede privata, piuttosto che in pubblica. Ecco lì. Tecnico informatico, eh sì, il tecnico informatico. Solo che a me... Laureatevi. Eh... Per quello sto optando per il privato. Perché voglio laurearmi. Se no non mi laureo. Parlamento. Scusate, io studierei se i professori non mi mandassero a cagare, non mi dicessero tipo fallita o cose del genere. Perché i miei professori sono... Brutta fallita. No, i miei professori si sono permessi di prendermi a parole. C'è... E di dire tipo non ti aiuto perché devi fare ripetizioni. C'è... Sì, ma molti professori sono falliti, ma per favore stanno lì soltanto a riscadare la sedia. Ma io non faccio nomi perché se no tu rinominerai tutta la scuola, guarda. No. Guarda, io c'ho avuto un professore... Ma ti spiego il perché sono andata così di merda. Allora, il primo anno ho avuto un professore che... Che non ci spiegava un cazzo. Quindi non capivamo niente di informatica. Stavamo indietro col programma. Il secondo anno abbiamo avuto un professore... Che... Un mio compagno di classe praticamente si alzava. Andava vicino a sto prof. E cominciavano a parlare solo loro due. Quindi il professore spiegava solo a un compagno. Noi di conseguenza classe dovevamo alzarci e metterci vicino alla lavagna. E il fatto è che loro già... Essendo che quel compagno era già avanzato... Perché aveva il fratello che aveva insegnato le cose. Lui praticamente il professore andava avanti solo con sto compagno. Se lui capiva va bene. Se noi non capivamo lui diceva... Ma è facile, dovete capire. Ok che è facile, ma se tutta la classe non capisce... Fatti due domande. E vabbè. Faisi di essere tu quel compagno. E il problema era che lui si alzava... Andava dal professore. Anche io mi alzavo e andavo dal professore, no? Questo era in secondo. E il fatto è che lui spiegava solo a quel compagno. E non seguiva le cose del libro. Il terzo anno ho cambiato... Ho cambiato scuola. Perché mi sono dovuta trasferire. Di conseguenza mi dovevo svegliare il 5 di mattina. Prendere il treno per 40 minuti. Farmi mezz'ora di camminata. E andare a scuola. Andavo a scuola e già avevo esposto il mio problema. E io ho detto... Guardi, io il primo e il secondo anno ho avuto difficoltà. Non capisco niente. E il professore mi fa... Sti cazzi? Eh lo so, purtroppo no. Il problema è che non riusciamo anche a fare ripetizioni il pomeriggio. Porca trota. Ehi capitano! No, grazie mille. Questo film ha segnato la... No, me la segnano sempre come pre-registrata. Porca miseria. Sempre. Comunque comincio a pensare che... I tuoi altri sono sempre un po' troppo alti. Visto che li sento anch'io. Non dovrei... E vabbè, poi abbiamo avuto il professore che ci insegnava la codifica che era divorziato. Porca trota. Grazie per la donazione, Mini. E... Quello lì praticamente non c'era voglia di fare nulla. Faceva solo battutine. E ci dava compiti e fa ragazzi, è facile. Dovete riuscirci. Io gli chiedevo aiuto e lui... E come ti posso aiutare? Ripetizioni. Perché ovviamente io dopo essermi svegliata alle 5 di mattina reggo anche le ripetizioni. C'era già più di 8 ore che ero sveglia. Il mio corpo non riusciva più a reggere. Il fatto è che c'era poi solo la domenica che ti riposavi. Blue penso che si ricorda quel periodo della mia vita in cui non avevo tempo di nulla. Non avevo tempo di nulla, ero sempre stanca. Provavo pure a fare le cose. Ci provavo, ma niente. Ho provato anche a fare ripetizioni, ma... Niente. Io riesco, beato te. Beato. Così, lo stesso re. La mia sanità mentale diceva no, perché a scuola la situazione era una presa per il culo. Il fatto è che due volte a settimana stavo fino alle 20. Qual è la materia che ho di più? Dipende. Non c'è effettivamente la materia che odio, se vado a pensare. Perché le cose mi piacciono, mi interessano. Il loro problema è chi le insegna, che le fa odiare. Tipo... Quelle professore odi di più. Quelli di informatica, perché mi trattavano di merda. Mi insultavano pure, ma io vado a scuola per sentirmi insultare, ma vado in una privata e basta. Anche perché adesso sto facendo una privata per recuperare il terzo e il quarto anno, e l'anno prossimo faccio sempre in privata al quinto. A scuola io dominavo e mi portavano rispetto. Io invece dovevo farmi dominare dai professori senza parlare di quanti caffè prendevi. Porca miseria, sì, ero dipendente dal caffè. Sennò non riuscivo a stare sveglia. Perché poi nel mentre stavo cercando anche di realizzare il mio sogno, ovvero Twitch. Però quello era tipo un'ora al giorno. Facevo un'ora di live al giorno due. Studiavo. Ninja mi aiutava un sacco a studiare. Ninja era venuto pure a casa mia a studiare. Perché andavamo nella stessa scuola. Ma come lascia perdere Twitch? Ma Twitch mi ha aiutato un botto con alcune cose. Il mercato è saturo. È ancora a casa mia a state. Cioè, in mezzo a che parate è stata ancora a casa mia. È certo. Guarda, aspetta. Un beato. No! No! Che hai fatto? No! Mortal Axelot. No! È morto l'Axelot. Ora sto in vacanza quindi non lo sto usando. Mi serve un cartello. Ho speso l'ira sul PC e non lo uso mai. Mi? Io per il PC ci ho messo un po' di tempo a farmelo. Se tu hai il tempo che ti dico ai giochi hai tantissimo tempo. Oddio! Non è che ti dico tutto sto tempo ai giochi, eh? Cioè, ok che non mi manca un cavolo per giocare, sia chiaro. Ma non perdo tutto sto tempo a giocare. Non c'ha sordi. Cioè, non c'ha tempo. Non è che non c'ha sordi. No, no, ma io se devo mettermi a studiare, studio, eh. 5-6 ore. Mi dipende. Ma io manco gioco 5-6 ore al giorno. Blu può confermarvi che assolutamente non gioco 5-6 ore al giorno. Cioè, lui mi chiede giochi. Dipende. Dipende dalle giornate. Però quando andavo a scuola, no. Il PC lo toccavo soltanto quelle 2-3 ore al giorno per Twitch. Basta. Ma io devi un cartello. Non ce l'ho. Non ho voglia di farlo. Anzi, ho capito. Rompo questo. Cioè, addirittura c'era... Allora, la situazione era drastica. Perché poi io non è che sono una che si impara le cose perfettamente. Io ho anche il DSA di matematica. E in tutte le materie non riesco a memorizzare facilmente le cose. Quindi ho bisogno di schemi. Alla quale c'era una prof di sostegno che piuttosto di aiutarmi, che doveva aiutarmi, mi diceva sempre... Mi portava via dalla classe. Quindi perdevo le lezioni. Perdevo le cose importanti. Per dirmi, no, ma tu devi andare all'artistico. No, ma tu devi fare l'artistico. Sì, e poi che cazzo ci faccio con l'artistico? Cioè, se io disegno per passione e non perché voglio farlo come lavoro, Io ho fatto 3,5 giorni non stop senza dormire e quindi... Porca miseria, capitano. Porca miseria. Nixa, vieni su Discord. Unisciti la conversazione, va, che tu eri presente all'epoca. Ti piace la grafica? Oddio! Non è che me la cavo... Così, così. Io ho imparato a fare grafica facendo Twitch, appunto. E YouTube. Oddio, dipende come... Cosa fa? Io ho un'amica che, ad esempio, studia il grafico. Chi è che mi ha ammazzato tutti i polli? Io no. Vabbè, quello è ovvio che guadagna meno il programmatore. Quello è palese. Andiamo a vedere il programmatore e prenderà la stessa... Stessa radegrafa. Ah, vabbè. Effettivamente sì, perché ora tutti vogliono fare programmatori. Nixa, vieni su di S. Muoviti, pubblica, ti sposto. Ma è sparita la pubblica 2, comunque. Non capisco il perché. Boh. Non è che tipo l'ho spostata... Sì, l'ho spostata da qualche parte, ecco. Devo giocare con di S. Fa niente, vieni su di S, muoviti. Lavorato per tre anni in agenzia come grafico. Ci sta, tempo che succede, mi... Mi invento qualcosa per farmi i nostri soldi. Sono un programmatore da un anno e mezzo. Ci sta, andate, sì, perché chiamo... Buonanotte, capitano. Puoi mettere un attimo che piove. Eh, non mi ricordo il comando. Lo sai benissimo anche tu. Allora, allora, l'oninzia. Buon salve. Che poi è scritto spistatemi. Sì, sì, lo so, l'ho letto. Ho ammazzato un po' allo. Io sto scrivendo veloce perché... Quanto dura la live? Ancora un po'. Finiamo questa chiacchieratina e poi... Ninna. Che è tardi. Che poi sapete cosa ho scoperto? Io dopo che faccio... Allora, mi faccio il terzo e il quarto in un anno, praticamente. Con sta scuola privata. E poi il quinto e dopo posso andare in qualsiasi università io voglio. Se volessi andare all'università posso? Beh, se ti prendi il diploma... Penso proprio di sì. Eh, quello è ovvio. Insomma. Ui! Che poi vabbè, alla fine è meglio così, sai? Meglio che andata così, penso. Perché c'ho... Dovrei avere un tutor che mi seguo in privato, che mi aiuta ancora di più. Quindi è mille volte meglio così. L'università studia. Ma io non ho mai detto che mi fa schifo studiare. A me piace studiare. Il problema è nel modo in cui me lo poni. Se tu mi chiami deficiente... O ritarda... Che non posso dire l'intera parola. Ritardatario. Ecco. Cioè, è normale che non ti studi più un cazzo. Mi arrabbio contro il mondo, dopo. A me sembra che l'università di informatica sia solo matematica. Il fatto è che io la matematica la sono discalcola, ok? Però se... Ho avuto dei professori che la matematica sono riuscita a farmela fare da Dio. Mi davano gli schemi. La calcolatrice. Porca trota. Uno dei voti più alti della classe, prendevo. Era una delle più brave. Non so come è possibile. Infatti quella prof l'ho ringraziata... Ho ritrovato un numero, l'ho pure ringraziata, porca miseria. Se vuoi fare l'ingegnere informatico o fare l'università? Ma tu li metti su YouTube o ti fai l'iris? Fai entrambi. Sia su YouTube che Littis fai. Oh, ti puoi tippare da me? Se mi dai del cibo, sì. Tu tippati. Tanto non ti servirà il cibo dove stai per arrivare. Sì, mi sono tippata, ma tu non ci sei. Blu? Che cazzo? Attento a cadere la caduta. Ma non mi fa... Siamo a 1500 metri di altezza, stiamo cadendo. Guarda verso il basso. Ah, oddio. Ah, sono precisamente sull'acqua, non muoio. Blu, fai schifo. Dove mi hai mandato? In aria. Ciao. Allò. Cioè, guarda che sei messo in critezza perché non si fida. Fai schifo. Ovvio che non mi fido. Ma ti ti pone la lava. Vediamo se si fida. Perché hai spaccato un albero? Tava fastidio. La schizofrenia. Esatto. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai qui, vai. Fui. Però io penso che comunque se fai l'informatico e resti in Italia... Cioè, ma se fai... Non ti serva a nulla. Devi cambiare paese se fai l'informatico. Cioè, oddio, in realtà... Io so che c'è gente che lavora da casa per aziende al di fuori dell'Italia qui. Sì, ma comunque al di fuori dell'Italia. Io te lo vede? Come... Come mio cugino... Mio cugino che lavora... Che ha studiato la stessa cosa. Lui ha studiato dalla Romania. E' andato... In CULONIA. Big man. E mo... Lui, grande imprenditore, dovrebbe fare tipo protezioni bancaria. Dovrebbe tipo fare le protezioni per le banche. Io lavoro nel mondo dell'adulto... What? Sono sconvolta. Appro OnlyFans con i piedi di Elias, però. Che cazzo... Ma è... What the fuck? E' così. I piedi non vanno. Eeeee... Allora, le prendo da internet e le rivendo. Easy. Bella New York, buon carica miseria. Blu, quando è che mi porti a New York? Andiamo lì, mi ha giù di nozze. Quando ti addormenti... Lo sogni... E ci stai. No, no. Quello è C... Semplice, semplice. Tu quando caghi, invece vai a Chicago. Di notte, però, eh. Le li metti in sopravvivenza. Che non posso ucciderti. Comunque, raga, direi che per stasera stacco qua. Ci si becca domani sera. Sempre in live. Domani sera. Spero di fare pomeriggio. Domani, se vuoi, fai, decidi di funzionare. Anche se ho i miei dubbi. Ho tanti dubbi. E niente. Bye bye. Grazie mille per guardare la live. E per essere entrati nel server. Ciao ciao. Dai. Yo bucado, ha 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 ha.